Ciao a tutti amiche e amici di Facebook e di Youtube del mondo del web, sono qua per fare la sfida che sta diventando il vero tormentone dell'estate, ovvero l'Ice Bucket Challenge, ovvero in poche parole la secchiata d'acqua sulla testa. Perché questo? Perché tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche non del mondo dello sport, si stanno sfidando tutti a secchiate in testa e visto che io non sono un personaggio famoso però mi piace prendermi a secchiata in testa e spero un giorno di diventare qualcuno comunque, forse a massa qualcuno mi conosce già, sono Matteo Bigini, Comunque, andando avanti, perché lo fanno? Perché è per una giusta causa, ovvero devolvono milioni e milioni di dollari per la ricerca sulla SLA, quella bruttissima malattia che tutti voi in gran parte conoscete. Adesso, papà, inquadra, facciamo vedere il secchio d'acqua gelata, qua è pronto, mi apro pinco, torna pure su di me, siamo live, possono succedere queste cose, torna pure su di me, mi levo la maglia, come giusto che sia. Ah, e un'altra cosa, sfido a fare questa cosa, visto che hanno fatto i furbi, Andrea Franchini, Lorenzo Galli, Sara Cardicigoli e Silvia Fazzi, adesso avete il video, quindi non potete accampare più scuse. E via, mamma mia, ho già paura. Ok.